Nella categoria 14-15 classe B2. Funziona un po' come il calcio, a seconda della bravura, questi ragazzi avanzano di categoria. E per Veronica e Giulio, come primo ballo di esibizione, abbiamo Samba. E per Veronica e Giulio, come primo ballo di esibizione, abbiamo Samba. E per Veronica e Giulio, come primo ballo di esibizione, abbiamo Samba. E per Veronica e Giulio, come primo ballo di esibizione. E un grosso applauso, Veronica e Giulio, 14-15 anni, classe B2. Grazie.